Giornata intensa oggi a Verona. In attesa del Nabucco per questa sera e della straverona di domani, nel pomeriggio Piazza Bra si è riempita dei colori e dei cartelli del Verona Pride. Presenti numerose le forze dell'ordine anche per separare il pubblico del Pride che affluiva in centro dal presidio di Forza Nuova in piazza Pradaval. Perché oggi è il giorno del Pride a Verona, sono successe delle cose che non ci sono piaciute molto, le dichiarazioni del vescovo solite, insomma un vescovo ormai in decadenza, ma che non la smette chiaramente di epitetare in maniera medievale. Forza Nuova fuori dalla piazza, una piazza che abbiamo fatto fatica ad avere, fino all'ultimo non ce l'avevamo, pur avendo mandato un avviso un mese fa, più di un mese fa, e poi è importante esserci anche per chi non c'è, per tutti quelli che si sono buttati sotto i treni, per i fatti successi in Turchia, per i fatti successi negli altri paesi, è importante occupare le piazze con il Pride. Anche per fare pressione sui temi del DDL Zani immagino? Sì, anche per quello, però quello che ci importa di più, devo dirvi a parte il DDL, è che è la percezione della gente che deve cambiare nei confronti delle persone omosessuali. La legge può aiutare, ma non solo una legge punitiva, cioè deve cambiare la percezione delle persone, cioè noi dobbiamo essere percepiti come persone che hanno qualcosa da dire e qualcosa da fare, e non solo da colpire con insulti, violenze o indotti al suicidio. A pochi metri dalla manifestazione, il presidio di Forza Nuova con manifesti altrettanto eloquenti. Di fronte a una massa purtroppo di mitomani e di persone che osteggiano un qualcosa, che però purtroppo per loro vengono usate da questo sistema, che vuole livellare, cancellare etnie, sessualità, specificità e differenze. Spazio anche alla critica della gestione della pandemia. Oggi a Verona, come in altre otto città nel nord Italia, per parlare di libertà. Libertà dalla narrativa Covid, dalle chiusure e dai prossimi lockdown che arriveranno puntuali in ottobre. Grazie a tutti.